Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 2 aprile, questa sera ritorniamo in radio con 105 Matrix, ieri ci siamo presi tutti quanti un giorno di pausa in più. Cosa è successo oggi secondo i giornali? La cosa fondamentale, lo sapete che ne sono appassionato, è la questione dei dazi, perché oggi la Cina ha risposto ai dazi denunciati, annunciati e fatti da Donald Trump su 128 diversi prodotti americani, tra cui la carne di maiale, le tubature, alcuni vini frizzanti, insomma per 3 miliardi di euro di dazi, è la guerra commerciale, per cui quando uno alza il muro l'altro non è che sta zitto e fa pippa, anche l'altro alza il muro, è la base di tutte quante le guerre commerciali raccontate non solo dagli economisti ma da chiunque, su questo apre il Corriere della Sera e il Foglio in un suo editoriale dice su una cosa tutti gli economisti sono d'accordo, citando una famosa frase di Churchill, cioè se io vedo due economisti all'interno di una stanza e chiedo loro un consiglio avrò due consigli diversi, ma se all'interno di quella stanza uno dei due economisti si chiama John Maynard Keynes i consigli saranno tre, anche se gli economisti sono due. Questa battuta vale per tutte le economie e per tutti gli economisti tranne per un caso, per le guerre commerciali e i dazi che fanno male all'economia, chiaro, quello alza i dazi sull'acciaio e sull'alluminio e quegli altri gli rispondono col maiale, quello risponde con i chip e quegli altri rispondono che so con gli aerei della Boeing, insomma è una di quelle questioni che qualsiasi economista sa che fanno male. Un grande economista di cui mi fido ed è Francesco Forte, oggi sul giornale invece di Milano di cui sono il vice direttore io, quindi insomma è roba di casa mia, dice ragazzi ma di che state parlando? Si tratta di una puntura di spillo, 60 miliardi ipotizzati di merci su dazi economia come quella americana che vale 18 mila miliardi è niente, questo è quello che sostiene Forte, può essere che dal punto di vista economico sia poca roba, io non gli do torto su questo, quello che è certo è che però il segnale è pessimo. Pensate un po' voi, oggi Salvini richiede, in qualche giornale è presente, che vengano ridotte le sanzioni nei confronti della Russia, ricordate per l'invasione mi sembra dell'Ucraina, quindi di tanti anni fa o della Crimea, non mi ricordo quale delle due fu, comunque sia in quel caso le sanzioni che noi abbiamo fatto alla Russia, alla sola Italia, altro che dazi di Trump, molto peggio dei dazi di Trump perché nel 2013 noi esportavamo nei confronti della Russia 11 miliardi di Euro di materie prime italiane, tra cui il parmigiano che adesso si fanno a casa loro. Sapete quanto è sceso negli ultimi anni? Siamo passati dagli 11 miliardi del 2013 agli 8 miliardi del 2017, in 4 anni abbiamo perso e bruciato 3 miliardi di Euro. Allora quello che dico, tutti quelli che sono come me contro i dazi che fa Trump alla Cina, tra l'altro la Cina mi sembra un paese che non si fa troppi questioni nell'invadere, nel rispettare i diritti delle persone. Ecco, tutti quelli che sono come me liberali con Trump e dicono sono sbagliati i dazi a Trump che Trump fa, forse dovrebbero essere d'accordo anche con me nel dire che sono sbagliate anche le sanzioni nei confronti della Russia, che sono una misura assurda, assurda. Detto questo la contraddizione è anche in Salvini, che è contrario, è favorevole ai dazi nei confronti della Cina da parte di Trump, invece è contrario ai dazi nei confronti della Russia. Il problema è che non si può essere opportunistici sui dazi, i dazi fanno male comunque e sempre. Detto questo i temi della giornata purtroppo non sono soltanto questi, ci sono quelli degli incontri che partiranno domani alla Quirinale, i giornali tutti quanti ci fanno capire forse l'infografica più bella come spesso avviene, no, non come spesso avviene, in genere è Repubblica, oggi quella del Corriere più chiara, ci fa capire che domani sarà il turno dei Presidenti della Camera, del Senato di Napolitano e di Casellati e Fico, che sono rappresentanti però di due partiti importanti, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, mentre Napolitano rappresenta solo se stesso e lo sfascio del passato e del futuro se continua a occuparsi di politica e poi il primo partito che verrà convocato domani sera è quello che ha il risultato più basso in centro-destra che è Fratelli d'Italia, non è convocata l'EU per evidenti motivi perché non è riuscita neanche a fare un gruppo parlamentare e quindi è nel gruppo misto, che ha più parlamentari di Fratelli d'Italia e quindi arriverà dopo. L'ultimo a essere convocato sarà giovedì il Movimento di Di Maio perché è il movimento che ha più parlamentari singolarmente inteso. È anche molto significativo il fatto che il centro-destra si presenterà con Salvini, Berlusconi e Meloni appunto, quindi direi che è plastica l'idea che il centro-destra sia anche diviso e rappresentato da tre partiti, mentre uno solo sia il Movimento 5 Stelle. Il peso del Movimento 5 Stelle è superiore a quello della coalizione, questo è del tutto evidente e oggi i giornali su questo non lo notano molto, ma è la prima cosa che noto, cioè se va dal Presidente della Repubblica uno che da solo rappresenta il 30% e gli altri rappresentano il 14, il 18, come il caso di Forza Italia e Lega, è chiaro che quell'uno ha un peso maggiore nel colloquio con Quirinale. O no? Direi che è una cosa abbastanza banale. Seconda cosa che ci fanno notare i giornali è che sono passati 31 giorni tra le prime convocazioni e risultato elettorale e tra altre tanti ne passeranno, secondo il retroscena di tutti, domani non si arriva a nulla, nei prossimi tre giorni è un nulla di fatto. Quindi, insomma, per fare un governo in questo paese ci vogliono almeno 60 giorni. Bella la foto in primo piano oggi messa su Quirinale della Sera di Di Maio, mi viene da ridere perché Di Maio anche il giorno di Pasqua sta in giacca e cravatta. Il che ci sta, insomma, che ci sia Di Maio in giacca e cravatta, il prossimo Presidente del Consiglio sta sempre in giacca e cravatta. Il punto fondamentale è che anche il papà sta in giacca e cravatta e non si tratta, non so, di soci della caccia di Roma o del clubino di Milano, cioè che tutti immagini che debbono entrare nei loro circoli chiusi solo in giacca e cravatta, sono nella loro, diciamo, tinello, nella loro sala da pranzo domestica con un fratello che ha la t-shirt nera a maniche corte, insomma, non siamo esattamente in un club inglese. È molto significativo che papà e figlio in giacca e cravatta, per carità, non voglio fare haters, perché è soltanto una notazione sul fatto che viviamo in un mondo di falsità. Va bene, un tempo erano le falsità di Berlusconi con la calza, adesso invece è tutto del tutto normale che a Pasqua Di Maio il papà stanno in giacca e cravatta, però questo non lo noterà nessuno, mentre invece la calza di Berlusconi, i libri oppure le tre cani dietro al direttore del collega da sera, quelle invece sono tutte robe naturali, è tutto naturale, è tutto normale. Fulvio Visentini è un signore di 73 anni che ieri è stato accoltellato e ucciso nel quartiere di Servola a Trieste. Voi direte perché ne parli? Perché è stato ucciso dalla moglie che si è incazzata con il marito. Allora succede qualche volta che nelle famiglie ci siano le mogli che ammazzano i figli, è successo poche settimane fa, che ci siano i mariti che ammazzano le mogli e la cosa di cui tutti i giornali parlano, il cosiddetto femminicidio, esiste anche qualche volta la moglie che uccide il marito. Allora si tratta in tutte queste cose di omicidi, non di femminicidi, infanticidi, ci sono gli omicidi, c'è il codice di procedura penale, c'è il codice penale, ci sono i reati, questa è stata subito messa agli arresti domiciliari, questa donna che ha ammazzato il marito. Mi diverte il fatto che su questo non abbiamo le articolesse delle nostre grandi indignate, ci vorrebbe qualche, come noi ci chiamano le donne, qualche maschietto che dicesse siamo deboli quando vecchi, siamo uccisi dalle nostre mogli, non possiamo più vivere tranquilli nelle nostre famiglie. Più serio mi sembra invece lo scandalo che non è tale, ma è quello che dovremmo affrontare molto più del femminicidio, oggi la stampa ci apre sui morti sul lavoro, 151 nel 2018, ovviamente il sindacalista cretino che dice che è colpa del precariato, c'è sempre. Poi se va a vedere soltanto gli ultimi 8 casi di cronaca sui morti del lavoro, si tratta di operai veterani che andavano lì o proprietari addirittura delle loro piccole aziende che andavano lì a salvare operai che comunque erano dipendenti, non c'entrano niente i precari, niente, però il sindacalista che cosa deve fare? Danno, cane, morte, cane, obiettivo del sindacato meno precariato, capito? Così si ragiona, tutto è politica, io non la butterei in politica, boterei sul fatto che obiettivamente il tema dei morti sul lavoro, 1100 mi sembra l'anno scorso, è un tema molto più grave di quello dei femminicidi e delle tante leggi che vogliamo fare, eppure tante leggi sono state fatte sui morti sul lavoro e non toglie che ci siano dieci volte più morti che sui femminicidi. Discorso complicato, mi rendo conto, mi va di farlo perché sulla zuppa faccio le cose anche complicatissime. L'altra cosa che mi piace, è divertentissima, è la quotazione di Spotify, che è una quotazione diversa rispetto alle cosiddette IPO, Initial Public Offering, che sono quelle fatte sui mercati finanziari. Voi pensate che il sole 24 ore oggi ci abbia spiegato per la rava e per la fava di che si tratta? No, ovviamente, il pezzo del sole 24 ore in prima pagina, taglio basso, ci spiega che viene quotata Spotify, ma è un pezzo buttato là, cioè qui si stanno quotando una cosa che coinvolge 71 milioni di abbonati, molti in Italia, 200 milioni di persone e loro che cosa ne fanno? Ci fanno un pezzettino in cui dicono c'è per la prima volta questa quotazione diretta. Ci vuoi spiegare cos'è la quotazione diretta? Ci vuoi spiegare che rivoluzione è la quotazione diretta? Non ce lo spiega. Seconda questione fondamentale sulla quotazione di Spotify. Spotify, sapete, è una bella azienda che probabilmente verrà capitalizzata, cioè verrà quotata in borsa, non ci spiegano come, cioè ci spiegano che è diverso rispetto al passato, verrà quotata in borsa, qualcuno dice a 15 miliardi, qualcuno a 20, altri a 24, altri dice che arriverà a 40 miliardi la quotazione di Spotify, c'è una sola cosa che è importante, quanto guadagna Spotify alla fine dell'anno? Perde 400 milioni. 400 milioni! Cioè Spotify perde 400 milioni. Stiamo quotando in borsa non il conto corrente di De Benedetti come fu definita la quotazione di CDP e tale si risolse con una quotazione flop, ma stiamo quotando una grande speranza che è Spotify, che noi tutti usiamo, che potrà essere uccisa da Apple Music, che potrà essere uccisa da Amazon Music, quello che volete voi, ma che perde soldi! Non dico che questo sia giusto o sbagliato, sono per il mercato, il mercato compra quello che vuole. Quello che so, semplicemente dicendo, nel momento in cui l'i-tech americano sta soffrendo perché Trump ammazza Amazon, c'è scritto su tutti i giornali, rompe le balle a Facebook, insomma, secondo il sole 24 ore sono stati bruciati in questi mesi 380 miliardi di capitalizzazione delle grandi società high-tech americane, Google, Facebook, Microsoft, Amazon e Apple. Sono state bruciate! Bravo Alessandro, CDB WebTech se la ricorda soltanto Usai. Allora, la cosa fondamentale che voglio dire, Spotify, cerchiamo di ragionare cos'è questo mondo in cui stiamo andando, in cui questi che cosa fanno? Ci fanno sentire la musica in streaming, esattamente come una radio, vale 30 miliardi di dollari secondo le previsioni, ma non fa una lira, anzi perde 400 milioni. Questo secondo me è affascinante. Nata nel 2008, è una società svedese in cui il mercato di elezione, come sempre avviene, è quello di New York. Ultima questione, ve lo ricordate, ve ne ho parlato due giorni fa, riguarda Claudio Amendola, l'attore comunista così, non comunista così, comunista così, come diceva Verdone, tant'è che quando l'ho invito non viene mai nei miei programmi perché io sono troppo di destra per lui, gli faccio schifo, che ha detto una cosa ragionevole nei giorni scorsi, ha detto che è stato il miglior politico degli ultimi 20 anni, è stato il più bravo negli ultimi 20 anni, Salvini. E poi però Grasso se l'è mangiato ieri sul giornale, ma come tu eri quello che diceva che ero un razzista e oggi gli rispondono Luca Telese e Vittorio Feltri e Luca Telese sulla verità dice una cosa sacrosanta e dice che un'altra cosa che ha detto però, che Aldo Grasso si è dimenticato di notare, è che lui ha detto ma io ho votato l'EU, cioè Claudio Amendola dice quello è stato il più bravo politico negli ultimi 20 anni e io ho votato l'EU. E come diceva, gli ha risposto ovviamente Claudio Amendola ad Aldo Grasso, è come se io dicessi che la Juve negli ultimi sette anni è stata la più grande squadra di calcio italiana, ma io non sono juventino, continuo a essere della mia squadra, riconosco che ho fatto un buon campionato, ma non sarò mai e anzi mi stanno sulle balle gli juventini, dice Claudio Amendola. Potrà dire che è stato il più bravo per chi ha portato un partito al 4% al 18%, un partito regionale, un partito nazionale, un partito ancillare a Forza Italia, un partito leader del Movimento del Centro-Restra, lo potrà dire questo caro Aldo Grasso? Chiede Luca Telese retoricamente oggi sulla verità al critico cinematografico del Corriere. Ecco, molto divertente secondo me il pezzo di oggi di Telese sulla verità. La storia di Telecom per chi se la volesse leggere oggi la racconta Povons sulla Repubblica e tutto partì da quella assurda privatizzazione del 1997 è fatta da quei geni di Prodi e Ciampi che come sempre avevano delle grandi idee, vengono considerate dei mostri sacri del nostro pensiero politico, economico, tutto dipende da loro, ma le cazzate che hanno fatto, tipo la privatizzazione di Telecom per cui il 90% andò sul mercato e lo 0,6% di E-Fill, cioè un nocciolino di amichetti loro aveva il 6% e doveva comandare secondo loro una società che era al 100% sul mercato, al 6% avevano un piccolo pezzettino di questa società. Questa era la situazione che si erano disegnati Ciampi e Prodi, ovviamente dopo un paio d'anni fu scalata dagli stessi amici della sinistra, cioè di D'Alema, che tanto aveva fatto per la prima quotazione della Telecom. Insomma, questa storia è solo se parzialmente, o anche se solo se parzialmente scritta oggi dalla Repubblica, una paginata. Vi do appuntamento come sempre questa sera con 105 Matrix, oggi è martedì, vi dico di condividere il più possibile questa zuppa perché stiamo andando male con le condivisioni. Like su questa pioggia e condivisioni sono ridotte, l'algoritmo di Facebook lo dobbiamo disinnescare e cioè cosa succede? L'algoritmo di Facebook fa vedere le cose soltanto ai tuoi amici, adesso semplifico, invece bisogna diffonderla, fatela vedere ai grillini, fatela vedere ai leghisti, fatela vedere agli zii e ai nonni. La condivisione è il modo per far sì che questa zuppa sia il più diffusa possibile. Poi dopo, riguardo ai like, chi se ne frega, quelli arrivano se gli piaccio. Nicolaporro.it è il sito per tutte le altre informazioni, faccio sempre un po' di marketing alla fine perché sulla rete devi fare da solo, se no non ce la fai e pubblicità qua, non la voglio fare. Un grande abbraccio a tutti quanti voi, condividete se vi piace, stasera 105 Matrix. Ciao!